segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te famiglia benetton che gestiva quindi anche autostrade gianni mion 80 anni che ha ammesso ha usato delle parole scioccanti perché in tutto in tutta la gamma della ricerca di responsabilità inserito un elemento di come di oggettiva consapevolezza almeno personale che effettivamente quel ponte fosse a rischio e che ci siano state poi la scelta di auto certificazioni e non una certificazione terza da parte del ministero delle infrastrutture per esempio comunque mancate sorveglianze quindi le sue affermazioni hanno aperto tante questioni e di questo vogliamo parlare nella seconda parte allora intanto comincio da stefano feltri che ha seguito molto bene questa vicenda stefano che impressione ti hanno fatto queste parole che adesso ascolteremo e che poi vedremo anche diciamo così in una variazione su come dire di diversione ma ma non molto significativa nella differenza in un'intervista che gianni mion ha rilasciato oggi a repubblica ma gianni mion è stato l'uomo per 30 anni dei benetton della holding e che nelle intercettazioni telefoniche di qualche anno fa dopo l'incidente diceva che le manutenzioni le abbiamo fatte in cala cioè è una persona che non può in alcun modo ritenersi estranea alle responsabilità e alle vicende che hanno portato al crollo del ponte morandi poi c'è una complessa strategia di rimpalli di responsabilità fra tutte le parti coinvolte al termine della quale risulta che il ponte è caduto ma non è colpa di nessuno questo è un po diciamo quello che è stato fatto in questi anni e mion ha cambiato idea più volte nel senso che adesso lui dice che ci fu una riunione del 2010 di cui però non dice la data non ricorda i partecipanti non ricorda le cose e e quindi diciamo manda messaggi un po contraddittori mentre fino a un paio di anni fa la sua strategia era dire e torna tutta colpa dell'amministratore delegato giovanni castellucci e la famiglia e gli altri diciamo prendevano i soldi ma non si facevano domande quello che sappiamo è che i problemi del ponte erano noti da decenni erano noti almeno dall'inizio degli anni 90 tanto che a un certo punto una delle strategie difensive di castellucci dei manager è stato dire i problemi erano noti addirittura prima della privatizzazione ma poi sostanzialmente si erano perse le tracce di quelle vicende con il passaggio di controllo in realtà autostrade stessa sapeva che il ponte aveva dei problemi tanto che aveva deciso di avviare dei lavori all'ultimo secondo con l'approvazione che è arrivata sostanzialmente a due mesi dal crollo del ponte e ci sapeva che non è neanche vero che si autocertificavano tutto nel senso che c'è stato anche lì uno scarico a barile interno in cui autostrade dava la colpa alla sua società di ingegneri spea ma a un certo punto viene coinvolto un certificatore esterno si chiama cesi che sostanzialmente dice che autostrade era in grado di valutare i rischi poi a sua volta cesi dice che aveva dei consigli che autostrade non ha seguito quindi diciamo ci stanno un po portando a spasso da alcuni anni con questa strategia di dire che diciamo alla fine non è colpa di nessuno perché tutti sapevano ma tutti hanno fatto solo il loro pezzettino e quindi nessuno è veramente colpevole ecco questo mi sembra un po il rischio di andare appresso a tutte queste a queste dichiarazioni giustamente di strategie difensive sentiamo sentiamo un momento le